Buongiorno, ci sono quei due motori là, guardi, qui qua lo vedo, quando si metterà, guardi, non scende più, vado a scendere quella che serve, guarda, vanno a livello. Ma il passino è in alto, c'è la parte di un'altra, c'è la parte di un'altra, c'è la parte di un'altra. Adesso vado, questo è il vicino a Pols. Il timon è là, il timon è là, il timon è là.